il sabato 2 aprile del 2011 sto andando a incontrare gli altri low pitch per finire la famosa cinquina italiana cioè i primi cinque pezzi in italiano della nostra produzione questi cinque pezzi sono stati fatti già in inglese che è la lingua che noi fino ad ora abbiamo usato per per esprimerci quindi questo è un piccolo reportage come si vince dal panorama circostante siamo decisamente un gruppo di provincia l'aspirazione internazionale destinazione fidenza praticamente arrivati qui low pitch vengono a bere da alessi arroccafè manco mi chiedono chi è ciao ragazzuoli come stai filmando sto filmando tutto oggi faccio il reportage puoi venire più avanti tra dieci minuti devo sboccare la regina invece è splendida cioè quindi abbiamo tutte le musiche finite di quella che non è poi la cinquina ma la sestina mi stai dicendo e tutte le voci anche registrate in italiano in inglese in italiano in inglese no sti cazzo oggi l'obiettivo è proprio finirli l'obiettivo oggi è finire volendo anche le voci se ci sono delle cose da sistemare boh perfetto si che potta roba che fai così boh molto più appunto creepy c'è questo effetto no ma è proprio tutta un'altra roba ti pulisce completamente la mente dal ritornello e quindi per farlo andare un pochino in testa secondo me vale la pena farlo sentire due volte in fondo ora allunghiamo di un tocco e lasciamo la parte musicale qua i pezzi nuovi ti piacciono? si hanno un buon effetto sul sistema nervoso neoneuro cantautorato i low pitch fanno del neoneuro cantautorato non ho trovato il genere scrivi sigo col bollino pensavo col marchio a fuoco del consorzio del crudo di parma anche marchio a fuoco c'è monolitico si ma con qualche wow si vorrebbe un attimino reso un po' più carriero scrivi che quella è lì se uno già girà stagatta che ti cerco fammela per pietà ma vabbè allora se abbiamo una raccomandazione diretta tramite te con l'Altissimo siamo posti io sono il tuo accessore non è questa come l'altra si può schippare abbiamo un ascolto generale e poi per me si può passare ad altra anche perchè come la fai più sexy sinceramente? non va più di modo sexy va di modo alla ragazza che biastumia come 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 muratore dice che hai cantato secondo me è molto più piena perchè non dico che lo sei a memoria ma quasi quindi ti esprimi molto di più piuttosto che leggere no io intendevo quella la seconda cioè non le ultime che ho registrato ho detto una cazzata? no l'hai detto ti esprimi molto di più io ho fatto la voce impostata ma scusa questa che voce è allora? quella che mi hai messo qua? la voce del cazzo ah no loro no è come se un brivido desse calore immagina grandi città senza adore riempirai lunghe giornate con niente da fare e farsi poi trasportare fino al mare come se una fuma facesse rumore e pagina un soffio che stenga il sole sono tante voce quindi basta una foto come se tutto quanto sia detrusa propongo attenzione a chi so che non ne vuole da fiducia alla ragione sono l'unica eccezione attenzione a chi so che non ne vuole da fiducia alla ragione sono l'unica eccezione è troppo bello per non uscire ora è troppo bello per noi come si dice ciao disco dell'estate grazie 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 cd consegnato giorno 1 missione compiuta